Il pensiero di tutta la gente per bene. Io penso che tutti quelli che oggi sono qui nel corteo la pensino come ho scritto su questo manifesto. La difesa è sempre legittima, perché se io mi difendo, difendo le mie cose, in prima posizione metto i miei cari, i miei familiari, e non capisco perché poi devo venire trattato come un delinquente. Perché io stavo a casa mia, facevo gli affari miei e mi entrano 3-4 delinquenti che vogliono derubarmi. Normalmente una persona cosa fa? Non si può buttare in passo i delinquenti. A lui si è spaventato, ha avuto paura sicuramente per la propria famiglia e allora ha cercato di difenderla come poteva. Io sono sicuro che lui non voleva uccidere quel ragazzo. Magari voleva solo spaventarlo. È stato sfortunato e ha colpito il ladro. Mi spiace per lui perché adesso andrà incontro a tutte le conseguenze. Io spero che i giudici abbiano comprensione perché lui voleva solo difendere la propria famiglia e i propri averi che uno mette da parte tutta la sua vita. Lei è un parente? No, io sono venuto perché lo sento forte perché non è la prima volta che succede e allora voglio portare la mia solidarietà. Ho visto che è già successo in tutte le parti d'Italia, però vengono sempre trattati come delinquenti le persone offese e non quelle che offendono. Grazie.